La salvezza Cos'hai Claire? Tutto bene? È solo un ragazzo che si è fatto delle strane idee Non potevo negargli quella foto Perché? Mi eccitava, credo Volevo dare un volto reale a Claire Antunes Sono Claire La tua voce è molto giovane Non la disturbava il fatto che Alex, pensando a lei, immaginasse un altro? Non fingevo di avere 24 anni Io avevo 24 anni Sta succedendo qualcosa tra di noi Ti vedi con qualcuno? Le mie mani ti accarezzano, lentamente Mi sono lasciata andare così tanto che mi sentivo più clara che Claire Non ce la faccio più Clara, ho bisogno di vederti Che cosa cercava di fare? Vivere un'altra vita? No, non un'altra, la mia Finalmente Non posso più aiutarla se continuo a mentire Non posso più aiutarla se continuo a mentire Non posso più aiutarla se continuo a mentire